Il progetto di recupero la città della piazza si inserisce all'interno del cosiddetto piano sosta che è in realtà un piano per l'organizzazione della sosta nella parte centrale della città. Sappiamo che con la pedonizzazione della piazza verrà meno un certo numero di parcheggi per i visitatori e anche residenti, è previsto da sempre di recuperare questi posti con il grande parcheggio dei nuovi parchi e con la sosta su strada nei dintorni della città. Sappiamo anche però che ci saranno degli impatti e questi impatti vanno controllati il più possibile. Stiamo lavorando per farlo, troveremo posti per i residenti, li stiamo trovando e soprattutto dobbiamo fare in modo che i nuovi parchi sia effettivamente più accessibili dal centro storico della città. Per questo stiamo intervenendo in diversi modi, rendendolo più sicuro, per esempio, attraverso una copertura della rete GSM più efficace e anche e soprattutto più vicino, con un nuovo percorso della navetta, con una velocità di accesso proprio da piazza Roma, al parcheggio, che starà intorno ai 2-3 minuti, quindi con una effettiva relazione molto più forte di quanto non sia oggi. Il progetto di recupero di piazza Roma alla città è un progetto fortemente condiviso con la sua intendenza, cosa che era nelle nostre intenzioni e che ha portato al risultato molto importante. È un progetto in sé molto semplice che lavora soprattutto sulla superficie, recupera a questa superficie la presenza dell'acqua che storicamente attraversava la piazza in almeno due direzioni. È un progetto sobrio, come si addice ai tempi che stiamo vivendo, perché non abbiamo le risorse economiche per immaginare soluzioni più vistose e più importanti. È un progetto che mette a disposizione della città uno spazio molto flessibile che sarà utilizzato intensamente per manifestazioni, iniziative di diverso genere e di diversa natura. So che i cittadini modenesi hanno anche delle idee diverse, giustamente qualcuno vorrebbe il verde, però ricordo che il verde in quella piazza non c'è mai stato storicamente, questo è stato uno degli elementi in cui abbiamo discusso e collaborato a lungo con la sovrintendenza. Il verde, l'ombra, il benessere fisico nei periodi estivi può essere comunque ottenuto con altre modalità, più semplici, più economiche, come le tende, ma anche per quanto riguarda il verde ci sarà l'occasione per avere degli elementi di verde rimuovibili che consentano comunque di avere nelle diverse occasioni in cui la piazza sarà utilizzata delle configurazioni anche molto diverse e un po' più complesse, più ricche di quelle che si vedono nelle attuali rappresentazioni.